I costi benefici che negli altri paesi hanno fatto moltissimo in termini di questi benefici, in Italia forse perché si è partito per primi non si è avuta questa possibilità, anche per questo ad oggi c'è un rallentamento, tuttavia saremmo ancora tra i primi e le nuove per l'introduzione dei contatori di nuova generazione. Qual è l'elemento determinante e risolutivo nei casi esteri? Il risparmio energetico, grazie al risparmio energetico il costitutore finale ha un maggior beneficio dall'introduzione dei contatori di nuova generazione e di conseguenza si avrebbero dei benefici per tutto il sistema gas, cosa che invece si è iniziata a fare e a ragionare l'Italia già molto prima che negli altri paesi europei.